Le fiamme gialle del comando provinciale di Pescara in quest'ultimo weekend hanno sequestrato in due distinti interventi oltre un chilogrammo di hashish e circa un quintale di botti illegali. Denunciato ed arrestato un pusher pescarese ventenne con precedenti specifici per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel primo blitz i baschi verdi in un'azione congiunta con la polizia locale di Pescara e l'aiuto dei cani antidroga hanno perquisito due abitazioni di edilizia residenziale pubblica nel quartiere Zanni. Scoperti oltre 700 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 700 euro in contanti di piccolo taglio. Presumibilmente il provento dello spaccio, oltre ad uno sfallaggente, tirapugni, taser camuffato a torcia e sotto il letto circa un quintale di botti illegali. L'arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Pescara che ha disposto l'obbligo di dimora nel capoluogo adriatico. Nel secondo intervento, da parte dei finanzieri del nucleo della Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, sono stati poi scoperti 300 grammi di hashish e 4 di cocaina. Sul mercato la droga avrebbe complessivamente fruttato circa 10.000 euro e di botti circa 1.000 euro.